Una sintesi tra le finalità della costa e quelle dell'entroterra. È stato questo il punto di partenza su cui si è fondato l'incontro avvenuto oggi nella sede del Comune di Cantiano e che poi si è steso sulle problematiche di viabilità di due tratte storiche come la strada statale Flaminia e la strada della Contessa. Un dialogo tra gli amministratori dello stesso Comune di Cantiano, Fano e Gubbio per discutere sulle prospettive future di queste due arterie di collegamento dell'Italia centrale, considerando i risvolti economici e turistici per le regioni Marche e Umbria. La problematica della Flaminia e della Contessa non è una problematica nostra, non è una problematica del Comune di Cantiano o del Comune di Gubbio, ma è una problematica del centro Italia. È un'arteria importante, è una viabilità storica che concilia e mette assieme i due mari, quindi l'Adriatico e il terreno. Siamo partiti quindi dai problemi attuali, quelli della risoluzione e dell'accelerazione sui cantieri, quindi degli attuali cantieri in corso, per lanciare invece un progetto di prospettiva che possa portare e cogliere le opportunità del PNR alla pari di tante altre direttrici di traffico. Quindi la nostra non vuole essere un qualcosa contro qualcuno, ma vuole portare alla pari dignità anche questa arteria, quindi mettere sul piatto il miglioramento della doppia corsia da Acqualagna a Gubbio e la risoluzione definitiva del problema della Contessa. Quindi oggi è uscito un patto importante tra la costa e l'entroterra che mi auguro sia da incipit per una discussione che porti alla risoluzione attuale e a una prospettiva futura di questa storica arteria. Per tempistiche le previsioni quali sono? Nell'immediato io mi auguro che i lavori in corso, quindi la chiusura della Contessa che avverrà a ottobre e di pari passo la chiusura dei cantieri sui viadotti di Cantiano possano chiudersi entrambi per la prossima primavera. Quindi è chiaro, ci sono ancora mesi di disagi, ma io invito a vedere questi disagi come un qualcosa di momentaneo che invece ci guardano a una prospettiva futura di miglioramento che porterà benefici reali, economici, alle nostre comunità. Purtroppo in questi anni sono state fatte scelte strategiche, purtroppo per noi sbagliate, con la creazione del nuovo asse viario, della quadrilatero che tende a portare persone del centro Italia verso il sud. Si è totalmente disequilibrato l'economia, quindi gli investimenti fatti nelle città hanno perso veramente di forza. E' per questo che oggi questa bella collaborazione, unione di intenti con Cantiano e Sugubio, nel ritrovare forte la necessità di ricostruire la Contessa, di far sì che i lavori contingenti fatti nella Contessa siano lavori rapidi, veloci, che considerano la situazione dei collegamenti sociali ed economici dei nostri territori, ma poi anche di rivedere strategicamente le scelte, considerando questo come un asse viario per la crescita sociale, economica, ma anche culturale.